La pandemia da coronavirus ha imposto a tutti di rimanere in casa, cambiare abitudini, riscoprire valori persi e ripensare il futuro, in ogni ambito, lavoro, formazione, rapporti personali e svago. Niente sarà più come prima. Di certo però chi vive in città, magari in appartamento, ha risentito maggiormente delle restrizioni imposte dal governo. Al contrario, chi abita in periferia o in aperta campagna ha potuto godere di piccoli o grandi spazi in più, come il giardino. Ma esattamente come si vive in un piccolo borgo ai tempi del Covid? Il comune di Monbaroccio, in collaborazione con la facoltà di sociologia di Urbino, ha avviato un progetto sperimentale per capirne di più. L'iniziativa coinvolge giovani e anziani. Praticamente siamo entrati nel percorso di dire intervistiamo i nostri anziani per conoscere il territorio e qual è il rapporto degli anziani con il borgo, cioè la salute nel borgo. Ci possa riguardare poi tutti i borghi della regione Marche. E partire da Monbaroccio come percorso sperimentale, cioè si è meno distanti in un borgo piuttosto che in altrove, perché si condividono anche degli sguardi, delle finestre aperte, dei balconi con un sorriso, quindi c'è un percorso sociale veramente diverso all'interno di un borgo. E si riscoprono anche i valori di una volta? Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché nelle interviste che abbiamo fatto e che continueranno a fare i ragazzi dell'università, si andrà a riscoprire cosa vuol dire fare il pane in casa, cosa vuol dire fare la pasta in casa e anche insegnarlo ai figli e nipoti, perché a volte sono usanze che si sono dimenticate e che in questi momenti così particolari, così delicati, a volte si riscoprono e diventano un valore sociale e anche un legame familiare importante. Quali sono i dati in suo possesso per quanto riguarda questa emergenza a Monbaroccio? I dati che ho in mano sono basati su dati praticamente statistici, senza poter capire chi è deceduto per Covid o no, perché è stato malato di Covid oppure no, perché comunque i tamponi non sono stati fatti a tappeto, quindi è difficile poter dare indicazioni precise nel merito, sebbene i dati che ci arrivano sono indicativi, ma secondo me sono solo parziali. I dati veri sono quelli che fra il 2018, il 2019 e il 2020 noi abbiamo avuto un incremento delle morti quest'anno del 300%, nel 2018 abbiamo avuto purtroppo 8-9 decessi, 10 nel 2019 e, guarda caso, 29 nel 2020. Questi sono i dati reali, vorrei che i tamponi fossero fatti in maniera un pochettino più più importante.